Alciati Evangelina nasce a Torino il 21 agosto 1883. Studiò all'Accademia Albertina col maestro G. Grosso. Tratta la figura, il ritratto, i fiori, le figure morte. Esordì alla promotrice di Torino nel 1908 con madre e bambino e nel 1909 vinse il premio Bricherasio. Espose a Torino, a Roma, a Venezia. Alla Galleria Nazionale Moderna di Roma esistono una violinista, dipinto nel 1908, ritratto di mia madre, del 1919. Alciati Evangelina si spense il 2 gennaio 1959. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS